Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo episodio della League of Learning Allora, allora, voglio spendere due paroline prima di inizio video Ecco perché lo faccio iniziare dalla Champions Select Era da molto che dovevo fare questo video su Ziggs Perché attualmente viene usato come AP Carry in botlane AP Carry, non AD Carry, eh Sono due cose molto ben distinte Quindi io voglio citare testualmente Il post che ha fatto un ragazzo sul gruppo del MOBA Perché esprime assolutamente quello che è la teoria del fatto perché si usa questo champion Guarda, ve lo lascio qua Ve lo lascio qua e ve lo leggo E ve lo leggo E ve lo leggo, beh Allora ragazzi, perché funziona Ziggs AP Carry? Non è una troll pick per i pro Attenzione, questo è essenziale Work per i seguenti motivi La passiva gli permette di fare trade con la maggior parte degli AD Carry Ed è verissimo perché la passiva di Ziggs che scala AP Fa dei danni allucinanti con un solo autoattacco Sia ai champion che alle torri La passiva più la Lich Bain e la W Gli permettono di demolire le torri più infatti qualsiasi di Carry Ed è verissimo, quindi molta più pressione per la prima torre distrutta Che sono 400 gold solo di quella Ora un attimo che compro e poi torniamo E poi torniamo Ha un buono wealth clean e danno sostenuto nonostante i problemi di mana Pre-morellonomicon Giustissimo, infatti il primo oggetto che ci faremo Come qualunque AP Carry Quasi come qualunque AP Carry È il morellonomicon Infatti prima di quello avremo un po' di problemi di mana Ma neanche troppissimi Poi, ha buoni danni burst Ed è vero perché Ziggs ha un burst enorme Soprattutto con la ultimate Self-engage appeal Dato dalla W Perché gli permette di disingaggiare Ma anche di ingaggiare E ha un ottimo range Pochi l'ariffici mettono di Carry Soprattutto nel run meta attuale In cui si giocano Glyphi e Attack Speed Invece di Mer Su alcune AD Carry Verissimo, infatti Non trovate quasi mai nessuna AD Carry A meno che proprio in rank e draft Che sa già chi sei C'è chi sa già contro chi è Che metterà nelle blu La resistenza magica A livelli 6 ha un power spike maggiore Di altri reach Di AD Carry Permette di essere un'accia molto rilevante in lane Assolutamente vero Perché nessuna AD Carry Riesce ad outradare Un Ziggs con la ulti AP Se gli ha sparato addosso Perché fa un male incredibile Ah, per la possibilità A jungler e mid top Niente di più vero Perché tipo adesso abbiamo Gameplank mid e jungler Gameplank mid Che è AD E jungler mid che è AD Gli svantaggi a dare un magic bolt Solamente sarebbe la perdita di pressione Sui obiettivi e torri Però con Ziggs mantiene la pressione Sulle torri Ha comunque Un buon danno sugli obiettivi Io ragazzi direi che Questo è tutto ciò Che io devo dire Su questo champion In teoria Ma aggiungerei Una cosa di mio Che ho anche spiegato Tipo ieri Nello stream di Kanlup Non so se qualcuno l'ha visto Si sta sviluppando In Aeghelo ovviamente Perché loro sono la mente In Corea La classica Corea Si sta sviluppando La mentalità Di usare AP carry Quali Ziggs Ma anche Xerath Anche Xerath Tralasciando I soliti script Tralasciando i soliti script Di utilizzare Questi AP carry Contro AD carry support Anziché contro Assassin e control Mage mid Perché i control Mage mid Sono molto forti Contro Ziggs I burst mage mid Tipo Syndra Tipo Victor Sono molto Victor magari un po' meno Sono molto forti Con Ziggs Ed è quello che li ferma Ed è principalmente Quello che li ferma Ecco perché Questi champion Prima non si vedevano tantissimo Però adesso Adesso Si è dimostrata La teoria La teoria di questa cosa Si è dimostrata La teoria Guardate Guardate i danni Che mettiamo addosso A questo trash Ok Il mano lo sprechiamo Ma è giusto Così è normale I danni Che mettiamo addosso A questi due Cioè guardate 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 Da tre chilometri Lei non ha possibilità Di trade contro di me Cioè deve venirmi in bocca Poi soprattutto Vain che ha un range corto Deve venirmi in bocca Per Per riuscire a tradarmi E soprattutto Soprattutto Con 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 un altro Con un partner AP Oh vaffanculo Con un partner AP In bot lane Cioè in supporto E ancora meglio Quali Xerath Zilean Belcoz È veramente 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 Forte Come Come strategia Si può dire Io però Non vi ho ancora Guarda Va 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 che roba Va che roba Dove li trovate questi danni ragazzi Dove li trovate Spiegatemelo Io voglio sapere Elencatemi Dove trovate questi danni In una di carry In una di carry Guardate Si Dove li trovate Allora Non vi ho detto rune masters Perché ero impegnato a parlare Allora rune Ovviamente Quelle rune Nel client nuovo Fanno cagare alla merda Quindi ve le dico Letteralmente io AP Quintessenze AP Poi Nelle blu Cooldown redaction Perché tanto Resonanza magica Non ne ho bisogno Arjan Nelle gialle Nelle gialle Abbiamo armor E nelle rosse Penetrazione magica Di Opla Vedete Scansata la gank Scansata la gank Tranquillo Proprio tranquillo Ho utilizzato Ho utilizzato la W Per scappare Zila mi ha anche Mi ha anche Boostato di speed E che che me frega Non me ne ho neanche accorto Di Gragas Per dire Per dire Io non mi ero accorto Di Gragas Non mi ero accorto Perché stavo Cambiando la La pagina Non mi ero Nel momento accorto Quindi Ho scampato Sono scappato La gank Semplicemente Utilizzando una schierla Adesso Ovviamente C'è da C'è da rendere conto Il fatto che No Era brutta quella C'è da rendere conto Il fatto che Ora non ho più umana Però Tutto questo Si può Tranquillamente Tranquilla Ora devo stare attento Si può tranquillamente Evitare Con un Con un back Certo All'inizio È un po' più Un problema Non Cioè Non Non prendiamoci in giro Premorello Nomicon È un po' più Un problema Riuscire a sfruttare Riuscire a sfruttare What the fuck Riuscire a sfruttare Ziggs Assolutamente Perché il mano Lo consumiamo Soprattutto se Non abbiamo Tantissima mira Però È una cosa A cui si risolve Adesso Le master Le master Le posso vedere Sono proprio Quelle Le Sono proprio Le classiche Per Per Sì 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 Puoi pure picchiarmi Non mi interessa Ora me ne vado Le 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 master Sono proprio Le classiche Per 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 gli AP Quindi c'è Non c'è nulla di speciale Ora le call Ci prendiamo Il nostro bello oggettino Che completerà poi Il morello Nomicon Magari un'altra pozza E adesso con il mana Che ci deriva Ops 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 Con il mana Che ci deriva Da Da questo bello oggettino Saremo Praticamente Non dico Oppostissimo In lane Ma comunque Riusciremo a fare qualcosa Magari perderemo Qualche CS Io vabbè Sono Ho anche parlato Spiegato Insomma Sapete come sono le cose Quando parlo e spiego Tutto quanto assieme Che magari Gameplay ne risente un pelo Però Non vi preoccupate Adesso inizieremo a Pushare forte Anche con Zilean Zilean appena fa un back Anche lui avrà più mana Inizieremo a pushare forte Soprattutto Quando avrò la QL3 Inizieremo a Eh volevi Eh volevi lezzo Inizieremo a Soprattutto ad attaccare Ad attaccare Con la passiva i nemici In modo tale Da fargli un botto di danno Vediamo di non usare la Di non usare le skill Per un cazzo Tipo così Tipo così come ho appena fatto Non utilizziamo le skill A cazzo dei cane Letteralmente Cerchiamo di usarle In modo giusto Anche perché Non sembra ma Di mana ne consumano Non sembra ma Questa non lo prenderò mai Non sembra ma Di mana ne consumano 3 potrebbe insomma essere qua No ok Non era qua Ora che c'ho la Ora che c'ho la La QL3 Adesso iniziamo Adesso iniziamo Più di prima A rompere il cazzo A Vein Come vedete Ora la stiamo Letteralmente distruggendo Solamente con due Q Lei non ha avuto Nessuna possibilità Di farmi nulla Perché non può Tradarmi Cioè Io gli sparo Da 50 km Lei ha un range minuscolo Ora questa è morta Questa è morta È morta È morta È morta È morta È proprio morta Cioè non poteva fare un cazzo Ok Anche Tracia Non poteva fare niente Io la QL ho lasciata Deliberatamente A A Zillian Perché tanto non l'avrei presa Ora qua ha un problema Perché potrebbe venire Potrebbe in teoria Venire Gragas Però Se non Iniziamo a sfruttare La La Proprio la peculiarità Di Ziggs Del push E del danno sulle torre Soprattutto di passiva Quando lo faccio Quindi Prima lo faccio Meglio è Vorrei tanto avere una pozione Però Mi sa che non mi è concessa Ok Perfetto Abbiamo Abbiamo la Abbiamo la ulti Questa torre è già andata ragazzi Tra poco metto la WDOP E questa torre è andata Boom Addio Addio torre First tower bot First tower First tower bot 8 minuti Cosa hanno potuto fare loro? La mia torre Piena Piena Neanche un HP ha perso Neanche un HP Ora molto semplicemente Ora molto semplicemente Prende questo Questo Una pozione Questa qua E si tira dritto Mid e per pushare la torre Now We Will Take Down Mid tower Si fa così Una volta presa la torre bot Si ricalla Si va mid E si inizia a prestare quella Magari con l'aiuto del jungler E del supporto In teoria dovremmo avere aiuto Da entrambi Non so se succederà Però Ci si prova Ci si prova Ci si prova Tanto a Bars Siamo superiori Decisamente noi Ora Non voglio Rompere troppo il cazzo A Non voglio Rompere troppo il cazzo A A GP No No perché Recolli? Non recollare? Oh Ho sbagliato Scusatemi Si però Porca puttana Ragazzi Guys Wake up a bit Cioè Zilean You're ult Man Ma che cazzo Boh Vabbè Vabbè Questa non l'ho veramente capita Qua c'è stato Un errore di Si ma non è il caso Dell'umana A parte che anche KazX doveva venire Allora in teoria In teoria In teoria Perché la pratica Non è mai Non è mai Come la vorreste Intanto Zilean doveva Voltarmi Primo Secondo KazX doveva Venire con noi KazX doveva Venire con noi Terzo GP non doveva Recollare Doveva Doveva iniziare Ok che aveva Pocomana Ma non importa Bastava solamente Ad attaccare Quindi ora Ho letteralmente Perso Quello che volevo fare Ovvero la pressione Mid E adesso mi tocca Torno dalla botte Per pusharla Bisogna stare attenti Anche a come Si mette la lane Perché Se mettiamo male Se mettiamo male La lane La di care nemico Può tranquillamente Frizzare E quindi Rompere il cazzo Senza Non so parlare oggi Senza permettere a noi Di Ho ferato a quelle canone Vero sì Senza permettere a noi Di poi Di poi farmare Possiamo andare Mid lane A tirare giusta torre Take Take Tower Mid All Kazix Kcom Niente Non ce la facciamo Vabbè che qua C'era cosa Ragazzi Non ce la Non ce la facciamo Non ce la Non ce la facciamo Proprio Non ce la facciamo Proprio Non ce la facciamo Proprio No no We can't You can't Listen to me It's Incredible Incredible E' incredibile Come non riescono Ascoltarmi E' veramente Incredibile Sto sprecando Un casino Sto sprecando Un casino Di Tempo Per farmi ascoltare Da questi qua E' veramente incredibile L'ho detto 30 volte 30 volte Vendiamo Mid Prendiamo Sta cazzo Di torre No Tutti così 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 Che pazienza Che ci vuole Porco Due Che pazienza Che ci vuole Che pazienza Che ci vuole A parte che Stiamo vincendo Lo stesso Perché loro sono Due set Quello si Ma Se non si sfrutta La torre bot Che è andata Giù Dio caro Vogliamo Prendere Questa Fottuta Torre Mid Ce la si fa Non ce la si fa Non ce la vogliono Fare Ma come Cazzo Giocano Come Cazzo Giocate Voi Me lo volete Spiegare Perché Continuate a Recollare Inutilmente Io Boh Non capisco Io non riesco A capire Io non riesco Vabbè Ascoltate Vaffanculo Vaffanculo A tutti quanti Fa Fuck you all Me ne sto Bottri Che devo fare Così Si perde tutto il vantaggio Si perde tutto il vantaggio E tutto quello che bisogna Dobbè fare Con Con una piccarina In bottri Però che ci vuoi fare C'hai compagno Andicappati Non ci si può fare niente A volte non ci si può fare Proprio niente Ah adesso vuoi aiuto Adesso vuoi aiuto Adesso vuoi aiuto Perché ti sei accorto Che loro Siano raccolti Sono andati mid Meglio tardi che mai Anche se ormai È bello che tardi Qua potrebbero venire Io voglio solo guardare qua Cazzi scontino a giangolare Imperterdito Proprio Se ne sbatto i coglioni Mi stanno in culo Ste cose Io le odio Queste cose Quando la gente Se ne strafotte i coglioni Se ne Letteralmente strafotte i coglioni Qua devo stare attento Perché potrebbe Ingagiarmi Se ne strafotte i coglioni Di quello che Sarebbe meglio fare Ora Devo stare attento a Vayne Perché Ma dove cazzo L'ho tirata Vabbè ragazzi Non ho capito Sta cosa Sinceramente Io L'ho tirata qua Ma mi sa che il mio cursore Mi ha giocato un bello scherzetto Vabbè Fa niente Tanto ormai Troll più Troll meno Che schermo E frega Troll più Troll meno Ce lo facciamo Questo drake Andiamo mid Adesso Cazix Mi sembri molto Confuso Riguardo a questo Fottuto drake Porca di quella Puttana Come cazzo Giocate Mi sono ancora Addormentate Eppure non è mattina Presto Cioè Sono già Le 11 Sono già le 11 Come dio Buono Giocate Ha anche smaitato Male Ora Ci raggruppiamo Tutti Quanti Assieme A questa Benedetta Fottuta Bastarda Torre di merda Ce la possiamo fare Secondo me ce la possiamo fare Se ci mettiamo di impegno Ok Vedete Vedete che se ci mettiamo di impegno Ce la facciamo E non è così difficile Magari un po Magari un pelo prima Bisogna farlo Invece che Vedete Perdendo così tanto tempo Perdendo così tanto tempo Come hanno perso Questi figli Puttana di merda Si perde la pressione Si perde la pressione Guardate quanto Quanto tempo Mi stanno Non è così Why You want to see Maybe Because We Should Do That Before And Not Fucking Now Magari Ma proprio Magari Cioè Come cazzo Giocate Bro Come cazzo Ma me la tiri Sta fottuta ultima Oh Sto Sto impazzendo ragazzi Sto rettamente impazzendo Sto I Pa Z Do Sto impazzendo Mi fanno impazzire A me queste cose Fanno impazzire Io quando non mi ascoltano E so di essere nel giusto Io impazzisco Davvero impazzisco Impazzisco tantissimo Vabbè Fa niente Cerchiamo di dimenticare Tutto quanto Cerchiamo di dimenticare Tutto quanto Mettiamo direttamente Rabadon Addio Ah si schia Che cazzo Di per Rabadon Vedete Sbaglio pure Gli oggetti Illuden Volevo dire Mettiamo Illuden Da quanto tempo È esattamente Che io sto cercando Di imprendere Questa torre mid Penso che siano Sette minuti Almeno Sì Esattamente Ho preso la torre 8 A 10 Ne avremmo dovuto prendere la mid Comunque Una buona metà Morto Vaffanculo Difficile Malzark È così difficile Malzark Basta Barstarlo Cioè Basta Barstarlo È difficile È difficile Prendere La torre con Malzark È difficile È difficile Cosa cazzo ci voleva Cosa cazzo ci voleva Cosa dio buono ci voleva Ma porca puttana È difficile È difficile È difficile C'è Malzark E la wave clear Porca puttana Maledetti Ora io non devo andare Perché qua non ci sto a fare niente C'era anche 3 da manne lintorno Andiamo via Adesso Si può ritornare bot E fare il medesimo lavoro Perché loro saranno confusi Anche perché Vai vai Su 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 Loro saranno confusi Anche perché c'è Lo sapevo Dicevo Loro saranno confusi Anche perché Li abbiamo tirato via la torre Non sanno dove ci stiamo posizionando Cioè ora lo sanno Perché porca puttana Agli non sanno posizionarsi Non so se è una buona cosa questa Boom Ops Non l'ho presa stavolta Boom 357 in Q Tranquillo proprio Tink Tonk Non è una buona idea Ma bene afka Ah no Non è afka Non è una buona idea al momento Stare qua perché siamo solo in due Kazix io non io Non cazzo gioco Kazix Ho sbagliato Porca puttana La stavo cedendo Se prendevo la Q Se prendevo quella Q Che ho failato L'avrei tranquillamente uccisa Però non è Ok c'è Gragas Niente Non è troppo importante Killare Tanto quanto far scappare Basta Zina Tanto quanto far scappare Da di Kerry nemico Perché non può stare Non può starci E noi tranquillamente Li seggiamo la torre Solo che doveva venire Kazix Io me ne sto andando Amico Non so tu Ma io me ne sto Andando Where did bombs go Ok Ora andiamo di nuovo Un attimo mid Perché vedo che GP ha un po' di difficoltà E poi dovremmo In teoria Anche prenderci Dovremmo in teoria Anche poterci Prendere l'era Lo so Sto farmando di merda Ma Sono sbroccato Sono sbarellato Un pochino Sono un pochino Sbarellato Cioè non adesso Adesso sono un po' più tranquillo Perché finalmente Hanno fatto quello che volevo Finalmente dopo Tre aree geologiche No Attenzione Ah 351 di Q Mi ha fatto mazza Complimentone Niente Non l'ha fatto un cazzo Allora Io direi che dovremmo andare Tutti quanti botlane Perché Adesso Ora Non ha senso Siggere un Malzar Adesso Che ha un casino di AP E può tranquillamente Weflirare Adesso li posso dare d'accordo Sono d'accordo Che non possiamo Per quello dovremmo andare botlane Ma prima era Fattibilissimo Era Prima era fattibilissimo Io certo non posso farmi Un 1v1 con Con Vayne Perché è pur sempre Vayne Farà schifo E tutto quanto E lo Cioè È in svantaggio Ma è pur sempre Vayne E Vayne È pur sempre Vayne Quindi Bisogna comunque Rispettarla Ho anche filato il cannone Quanti cannone ho filato In questo game Penso 5 già Penso 5 Oh Kha'Zix sta finalmente venendo botta E non ci voglio credere Non ci credo mai nella vita Non ci credo mai nella vita Ora riusciamo a Ma non mi prenderete mai Ma poco mai Ma che danno alla torre Boom Pock Facciamo Pock Ops Ho sbagliato No Non c'era bisogno Non c'era bisogno Tanto non morivo Zila Vedete Questa tina è un gioco un po' strambola Ok Boom Un altro Vedete quanto è semplice Quando ci si coordina Quanto è stato Kha'Zix possiamo tranquillamente Vendereci il Drake Quanto è semplice Quando ci si coordina È semplicissimo Basta solamente sapere Quello che si fa Basta solamente sapere Come funziona Cioè come funziona Zix Io capisco che siamo In una norma Capisco che la gente Nelle norma Non vuole impegnarsi Per motivi A me sconosciuti Però Boh Mi trovo sempre interdetto Su questa cosa Se devo essere sincero Gp come hai fatto un va bene Non lo so Ah ha flashato Ok Vabbè ci può stare Garen incredibilmente È 5-0 contro Trindamer Non l'avrei mai detto Ok che Garen è forte Però Trindamer se l'ha messa la botta Ok Trindamer ha sbagliato Intimizzazione Allora Questo è un po' più chiaro Però vabbè Bravo lui Non voglio denigrare La sua abilità Sicuramente Però sapete Ogni tanto Guardate quanto Pusha sto bastardo Ah bah ancora Un altro cannone Vabbè oggi Oggi lo chiamo Fail del cannone Questo episodio Questo episodio si chiamerà Fail del cannone Failo tutti i cannoni del mondo Oh porca puttana No non me lo faccio No non me lo faccio Non sono pazzo Non sono ancora pazzo Sono pazzo Ma non è abbastanza pazzo Non sono così pazzo Da fare il pazzo Non sono così pazzo Da fare così tanto il pazzo Boom Boom Un altro del naso Hola Hola Come cazzo si chiama Hola Vieni vieni bastardo Vieni guarda Vieni qua adesso Voglio vedere a passarti Ti voglio vedere a passarla Questa la mettiamo già qui Ah ok sono resi GGVP GGVP ragazzi GGVP Avete visto Che questo cazzo di champion funziona Se mi danno retta Porca di quella puttana Allora spero che vi sia piaciuto il video Se vi è piaciuto Mettete un bel like Un bel commento Quando vedete il video Scuoso per il tale canale Cresce Ci vediamo al prossimo episodio Ciao 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 ciao